Sono Matteo, Matt De Farmer e faccio il contadino digitale. Contadino e influencer con più di 300.000 iscritti al suo canale YouTube e 60 milioni di click totalizzati, Matt De Farmer è salito in cattedra all'Istituto Agrario di Sondrio. Cioè coltivo la terra e lo racconto sui social. Sono stato invitato per raccontare ai ragazzi come comunicare l'agricoltura, quindi come può essere una possibilità, comunicando l'agricoltura, aumentare non solo il fatturato ma la propria visibilità e clientela. E' il contadino del futuro e del giorno d'oggi, nel senso che oggi non basta più produrre, va venduto soprattutto il prodotto di qualità che abbiamo, posizionarlo. Lo stiamo capendo nel turismo dove sempre di più la viticoltura, l'agricoltura si sta unendo anche all'ospitalità. E' proprio questo concetto, se noi sappiamo raccontare il territorio, i prodotti che abbiamo, riusciamo a vendere un valore aggiunto. Allora non abbiamo concorrenza da parte esterna e soprattutto possiamo valorizzare e avere anche una certa serenità economica per poter reinvestire nel territorio. E' l'agricoltura malattia, quindi io per anni ho provato, i nonni erano contadini e quando ce l'hai iscritta dentro non te la togli. Quindi piano piano ho preso un terreno e ho continuato a prendere terreni e continuando lì a lavorare e sono qua. Io vengo dall'altra parte della valle, quindi sono bresciano. Conosco tanto i pregi, soprattutto l'agricoltura eroica che viene fatta, soprattutto nella produzione di vino, che è molto molto particolare. Poi più conosci un territorio, meno lo conosci, perché ti accorgi che ci sono tante sfumature, tante storie che fanno grande un territorio. Quindi dire solo che è il vino, la Valtellina, è riduttivo. Quindi anche lì non lo conosco e voglio conoscerlo di più. Iniziamo oggi un percorso che si snoderà attraverso cinque momenti a cadenza mensile, dove Matteo guiderà i ragazzi delle classi quinte verso una consapevolezza di che cosa vuol dire avere un'azienda agricola e soprattutto la necessità di comunicare bene la propria attività. Abbiamo scelto una persona che ha una grandissima abilità nella comunicazione digitale dell'agricoltura e questo credo possa far bene ai nostri ragazzi, perché le competenze digitali sono competenze che è necessarie oggi più che mai apprendere e credo possa essere anche un'occasione perché questo istituto agrario, che è uno dei luoghi simbolo della provincia di Sondrio, per la sua tipicità, possa anche crescere nel tempo qualificandosi con un'offerta formativa sempre più ampia.